e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora oggi parleremo di batterie non normali batterie ma batterie ai nano diamanti a detta del produttore possono arrivare a durare anche 28 mila anni e non hanno la necessità della ricarica si hai capito bene non si devono ricaricare vai con l'intro bene benissimo ragazzi allora andiamo a parlare di queste bombe perché effettivamente ragazzi al suo interno sapete cosa si nasconde sono delle nuove batterie ovile che hanno un cuore radioattivo e nel vero senso della parola perché perché racchiudono dentro delle scorie radioattive protette poi da una struttura esterna di diamanti diamanti sintetici ovviamente però comunque e come saprai il diamante anche se fatto il laboratorio è il materiale più duro e indistruttibile che possa esistere sono delle batterie se è vero se riescono a buttare fuori i primi campioni possono rivoluzionare tutto ragazzi perché cambiano il concetto di batteria perché queste ragazzi non vanno ricaricate hanno dentro queste scorie radioattive che generano energia elettrica non sono delle batterie ricaricabili ma sono dei veri e propri generatori a tutti gli effetti perché trasformano l'energia di queste scorie radioattive e la trasportano tramite quei circuiti interni la stabilizzano la regolano e la mandano in uscita pronta per essere utilizzata dai nostri utilizzatori questa tu quando andrai ad acquistare ti acquisterai che cosa un generatore di elettricità che trasforma energia radioattiva ecco di queste scorie in energia elettrica a vario voltaggio a varia potenza stanno lavorando già su dei prototipi però a bassa potenza che possono essere delle stilo delle mini stilo da 1,2 volt 1,5 volt però a detta del produttore che è una casa californiana che si chiama ndb possono con questa metodologia andare a costruire celle di qualsiasi dimensione 21 700 18 650 qualsiasi dimensione qualsiasi potenza viene rappresentata come un chip elettronico vero e proprio la quantità ecco di radioattività emessa anche se libera e pochissima però loro per stare sempre diciamo sul sicuro hanno optato appunto a proteggerle con questi diamanti verrà a costare dicono molto meno delle normali batterie all'idio perché perché ragazzi utilizzano gli scarti delle centrali nucleari scorie radioattive sono degli scarti di lavorazione vengono trasformati da ndb divisi in piccolissime diciamo goccettine questa piccola goccettina ti andrà a generare energia questa energia tramite tutto un circuito affiancato sempre dentro a quel chip e verrà trasformata in energia elettrica piccoli generatori nucleari con un cuore composto da parti di reattori nucleari in grafite i nano diamanti fungono sia da dissipatore di calore sia da semiconduttore e la grafite che è incapsulata nel nano diamante sintetico a sua volta è coperto da uno strato di nano diamanti che è realizzato dal carbonio non è ovviamente radiattivo e che anzi previene le perdite di radiazioni e funge anche da scudo super resistente immagina di avere uno smartphone uno smartphone con batteria lione di litio sostituisci questa batteria che devi ricaricarla almeno una volta al giorno metti una batteria ai nano diamanti questa batteria cosa ti comporta ti comporta di non dovere più andare a ricaricare cioè dal momento in cui tu vai a inserire la batteria nello smartphone il tuo smartphone ti funzionerà quasi all'infinito perché perché la casa produttrice di queste batterie indica una vita approssimativa da 10 a forse anche 20 mila anni cioè valori ragazzi impensabili questo vuol dire che se si rompe lo smartphone cosa fai prendi quella batteria la mette in un altro e la batteria che poi non è una batteria cioè capiamo il capiamo l'arcano è un micro generatore di energia elettrica ecco questo micro generatore lo possiamo pensare che possa andare anche non solo negli smartphone ma anche nelle auto cioè un micro un insieme di micro generatori che generano energia elettrica che ci fanno muovere l'auto senza dover andare a ricaricare la nostra auto o ancora meglio tanti più micro generatori che ci alimentano casa per 10 20 30 40 100 200 300 anni ragazzi ma cioè capiamo se è vero tutto questo dove stiamo andando a me piace come idea piace scrivimi sotto fammi sapere tu cosa ne pensi e niente ragazzi per questo video è tutto grazie per la visione iscriviti al canale mi raccomando seguimi e abilita la campanella per ricevere le notifiche ciao e al prossimo video